Procuratore, un importante dibattito oggi qui all'Università degli Studi di Salerno dal titolo I fattori distorsivi dell'economia legale. Quali sono gli spunti più interessanti che vogliamo estrarre? Insomma, qui è in gioco il ruolo della criminalità organizzata nel settore dell'economia. Almeno a mio punto di vista, come magistrato antimafia, credo che questo sia l'aspetto più rilevante. I fattori distorsivi dell'economia legale derivano in gran parte dall'azione della criminalità organizzata che oggi dispone di immensi capitali che deve collocare sul mercato e che provengano per lo più dai grandi traffici illeciti. Però oggi l'azione della criminalità organizzata nel settore dell'economia è diventata molto più raffinata. I mafiosi si sono laureati, per così dire, anche dal punto di vista degli studi. Hanno raffinato le tecniche di infiltrazione nell'economia legale ed illegale. E i tradizionali strumenti che vengono utilizzati, cioè sostanzialmente la collocazione dei grandi profitti provenienti dal traffico di droga, le estorsioni, la corruzione, che è diventato lo strumento più sottile e più insidioso rispetto ai tradizionali metodi della violenza e della minaccia. Unitamente all'infiltrazione dell'impresa criminale mafiosa nel sistema dei pubblici appalti, sono diventati gli strumenti di penetrazione più pericolosi ed insidiosi per la società a cui credo anche il registratore debba porre rimedio attraverso misure appropriate. Questo non soltanto a Salerno è un fenomeno che si manifesta in molte parti del nostro paese. La collocazione dei grandi profitti criminali è un problema che riguarda l'intero paese e anche nel sistema economico globalizzato l'intera società degli affari che non è ristretta nei confini nazionali ma ha a che fare con il mondo intero. Rettore, i fattori distorsivi dell'economia legale. Oggi qui all'Università degli Studi di Salerno si estrae un dibattito. Quali sono gli elementi più importanti di cui abbiamo discusso? La riflessione che viene da fare pensando a questo tipo di tema che è decisivo per il sviluppo del paese è che c'è una tendenza contrapposta. Da un lato ci sono le statistiche ufficiali che per adeguarsi a quelle che sono anche le direttive europee che fanno entrare le statistiche della produzione interna lorda anche i ricavati, i proventi diventano attività illecita. Questo oltre a essere un discorso eticamente inaccettabile è anche ovviamente fa passare un messaggio quasi di positività rispetto a questo tipo di attività. Dall'altra invece c'è l'economia reale. Un'economia reale che vede il nostro paese in sofferenza perché rispetto ad altri paesi è quello in cui questo tipo di attività unitamente al sommerso e quindi pensiamo anche all'Italia e alla Spagna quello in cui questo ha un peso e un'incidenza superiore. Io penso che invece debba passare un messaggio a occasioni come questa vista da diversi punti di vista, da giuristi, da chi poi il diritto lo pratica nelle aule dei tribunali e anche chi la vede dal punto di vista economico il messaggio deve essere completamente opposto. Se c'è la decadenza del nostro paese è una decadenza segnata da questa progressiva perdita anche di valutazione a livello internazionale di recente abbiamo perso l'ultima A quindi siamo un paese con sostanzialmente tutte B nella valutazione internazionale e con una percezione che questo sia un fatto ineludibile oramai un fatto che non può essere più contrastato e con questo tipo di progressione rischieriamo di perdere via via anche le 3 B che oggi caratterizzano il nostro ranking internazionale noi invece dobbiamo avere un orientamento di tipo opposto e per fare questo la strada principale che il nostro paese deve combattere è proprio quella del contrasto a ogni forma di legalità.